buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz ben ritrovati alla rubrica caffè mercati ritorno dopo due settimane di pausa dove mi ha sostituito il mitico luca di scacciati facendo anche delle operazioni molto molto interessanti che adesso andremo a riprendere numerose le occasioni che ci sono tuttora sul mercato e quindi adesso andiamo a fare un piccolo recap delle posizioni che abbiamo in portafoglio inoltre andiamo anche a vedere un po di cambi valutari interessanti chiaramente parleremo anche di bitcoin oggi come ogni lunedì ricordo che c'è il webinar del lunedì alle ore 18 io ci sarò questa sera e anche luca di scacciati quindi ricordo che è un evento gratuito e per iscriversi basta andare nella sezione appuntamenti ed iscriversi qui al webinar del lunedì detto ciò andiamo subito sulla piattaforma di kimura per vedere un quali per vedere un po di operazioni da fare a mio avviso comunque un po di strumenti da tenere sotto osservazione allora innanzitutto noi siamo long su euro dollaro con obiettivo sui massimi precedenti in area 1 17 96 insomma 1 18 siamo siamo quindi rialzisti attenzione però perché il trend rimane comunque ribassista a breve valuteremo di spostare anche me lo stop loss in pareggio ottimo rimbalzo dai minimi in area 1 16 e 60 non apriamo per il momento operazioni a ribasso però una volta arrivati a target in area 1 18 a mio avviso si può valutare un acquisto di dollari americani detto ciò andiamo a vedere il gold so che ne abbia già discusso molte volte c'è stato questo ribasso importantissimo che ha portato le quotazioni a segnare un minimo in area 1 600 dollari per oncia però guardate la chiusura settimanale chiusura settimanale sui massimi riprendendo tutto il movimento ribassista andiamo a vederla con precisione tramite il biz dettagli che troviamo in alto a destra chiusura in area 1779,71 segnale rialzista a mio avviso molto importante sul time frame settimanale e da qui possiamo a mio avviso andare a trovare andare a rivedere nel giro di poche settimane la zona dei 1900 dollari per oncia è chiaro che però dobbiamo anche cercare di capire qual è il momento giusto per entrare dopo questo forte spike abbiamo assistito a questo impulso rialzista andremo quindi a valutare un acquisto a mio avviso una volta che i prezzi torneranno nella zona intorno a 1760 1750 dollari per oncia quindi più rialzista sul bene rifugio per eccellenza andiamo però ora torniamo subito sui cambi sui cambi valutari euro yen si sta apprezzando nella giornata di oggi vedete l'euro è molto è positivo in in apertura dopo l'apertura dei mercati europei che cosa attendiamo attendiamo un ritorno in area 129 25 per valutare una nuova posizione al ribasso ci possiamo mettere un alert qui o comunque andare a impostare anche un ordine pendente volendo con uno stop loss intorno alla zona dei 129 e 75 andando quindi a sfruttare quello che è il trend di più ampio respiro che come potete vedere segna massimi e minimi via via decrescenti e quindi andiamo sul ritracciamento sul rimbalzo a comprare yen giapponese e a vendere euro parliamo anche di audi usd che il dollaro il dollaro australiano ha perso molto contro il dollaro americano infatti notiamo un ribasso molto importante con un minimo molto vicino alla zona degli dei 0 71 attenderemo quindi anche qui un ritracciamento che deve ancora avvenire un rimbalzo importante per seguire anche qui il trend di fondo che rimane comunque ribassista quindi short su audi usd è vero che il sentiment segna un 76 per cento dei piccoli traders che sono posizionati al rialzo ma a mio avviso è troppo presto per pensare a una posizione ribassista più interessante invece risulta essere usd cad perché dopo aver raggiunto un massimo importantissimo anche oltre gli 1 29 è stato raggiunto un massimo in area 1 29 50 stiamo ritornando su dei livelli tecnici a mio avviso interessanti il trend rimane palesemente rialzista come potete vedere e a mio avviso gli obiettivi sono anche ambiziosi vediamo però dove possiamo valutare un long chiaramente siamo sui massimi sulla zona dei massimi precedenti qui che sono stati rialzo la scorsa settimana quindi sto parlando di tutta la zona compresa tra 1 27 50 e 1 scusate 1 27 50 1 27 25 quindi possiamo possiamo entrare a mercato oppure attendere un ritorno sulla linea in area 1 27 comunque rialzisti anche su usd cad e concludiamo il tutto con bitcoin dove siamo posizionati long da 33 mila con questa operazione di medio termine e da 45 mila siamo tornati in positivo su entrambe attenzione però a entrare adesso che abbiamo raggiunto la zona dei 50 mila dollari e l'abbiamo pure superata perché non potrebbe essere il momento sbagliato per entrare non dobbiamo avere paura di rimanere fuori dal mercato ma semplicemente andare a sfruttare quelle che possono essere quelli che possono essere dei nuovi ribassi per entrare long il livello chiave a mio avviso è quello dei 42 mila dollari magari a distante non non arriveremo lì però possiamo prendere in considerazione un primo long da 45 mila e un secondo long da 42 mila ci vediamo questa sera ragazzi alla al webinar del lunedì dell'ore 18 buona giornata e buon trading a tutti alla prossima viaggia viaggia Grazie a tutti